Buongiorno a tutti, il video di oggi è dedicato alla recensione di una pellicola che ho trovato su RaiPlay e credo sia disponibile sempre su RaiPlay ancora nella giornata di oggi, quindi se avete desideri o curiosità vi suggerisco di andarla a cercare oggi perché poi credo che verrà tolto almeno per un bel po'. Un film che è stato trasmesso la settimana scorsa su RaiMovie e quindi in qualche modo la programmazione della Rai in On Demand riesce a tenerlo buono per qualche giorno. Il film è Birra Ghiacciata ad Alessandria, chiamato anche Pattuglia Sperduta, un film bellico del 1957, pellicola britannica per la regia di J. Lee Thompson, conosciuto negli anni della storia del cinema bellico per i cannoni di Navarone del 1961, un film colossal che in qualche modo è quasi un simbolo per gli amanti del genere dei film di guerra. Ebbene, questo film di quattro anni prima è un qualcosa di, secondo me, interessante. Allora, il film, secondo me, lo dico subito, è un po' datato, nel senso che ha dei ritmi che oggi ovviamente stonano con un certo cinema molto più ubrioso, molto più adrenalinico. Una pellicola incentrata su una fuga, una sorta di road movie in mezzo al deserto. Siamo nella primavera, più estate, giugno-luglio 1942. Estranamente nella descrizione di Rai Play è messo 1143. Allora, diciamo che non diamo molto affidamento a coloro che fanno le indicazioni della Rai per quanto riguarda i film, diciamo, è un elemento un po' così squinternato, diciamo, le date non sono magari il loro forte. Però diciamo che il film è ambientato nel giugno del 1942, diciamo così, a Tobruk, nelle ore immediatamente precedenti e successive alla definitiva conquista della piazzaforte di Tobruk, da parte delle truppe italo-tedesche. Sappiamo che nella Seconda Guerra Mondiale Tobruk ha avuto una serie di alterne vicende, non a caso poi l'assedio che ha ingenerato anche un certo orgoglio nell'amor proprio britannico delle glorie britanniche in Nord Africa. Ebbene, quindi siamo alla vigilia della definitiva conquista, riconquista da parte degli italo-tedeschi e, diciamo, gli inglesi devono in qualche modo scappare. E la vicenda si incentra su un manipolo di personaggi, uomini e donne, essenzialmente due uomini e due donne inizialmente, poi una serie di vicissitudini porteranno a degli eventi che non vi sto a dire, però in qualche modo questo manipolo di personaggi, abbastanza eterogeneo nella propria composizione di esperienze, di vita vissuta, di ambizioni, di obiettivi e chi più ne ha più ne metta, si incammina verso il deserto cercando di sfidare sia le difficoltà che ovviamente il deserto propone, tant'è che nel film viene evidenziato come il deserto è il primo nemico dei combattenti che siano dell'asse o che siano degli alleati, ebbene quindi in qualche modo dovrò riuscire a raggiungere Alessandria con una serie di vicissitudini particolarmente ricorrenti e che si vanno un po' a susseguire. Il film, come dicevo, costruito forse in maniera un po' iccocchiana, possiamo dire, in questo, un po' claustrofobico nonostante la realtà estremamente ampia della, paradossalmente vi è una claustrofobia all'interno di una corofobia, nel senso che il deserto è talmente ampio ma per quanto è ampio abbiamo un senso di concentrazione dovuta anche ai problemi ovviamente legati al caldo, alla sete, alle difficoltà ambientali con sabbia mobili, campi minati, i tedeschi che arrivano e che vengono e che in qualche modo poi non si capisce un po' anche qui la parte della sceneggiatura secondo me soppica parecchio. Tra l'altro sceneggiatura basata su un romanzo di Christopher Landon, Christopher Landon classe 1911 che era stato prima di fare romanziere sostanzialmente era stato anche un militare durante la seconda guerra mondiale in Nord Africa, quindi in qualche modo ha avuto un sentimento, un'ispirazione dal vero tant'è che alcune alcuni elementi della narrazione sono effettivamente tratti da storie vere e un film costruito secondo me all'interno di un quartetto di personaggi con realtà diverse, c'è l'ufficiale problematico, fegataccio ma ubriacone, il sergentone, tutto d'un pezzo che in qualche modo cerca di risolvere le problematiche con una serie di vicissitudini, c'è l'ausiliaria, l'ufficiale donna infermiera che in qualche modo cerca di dare il proprio contributo nonostante appunto tutto gli sembra in qualche modo alieno perché è una realtà completamente alienante e soprattutto anche dover tenere testa a degli uomini non è sempre elemento positivo con delle scene anche di amore, diciamo degli ammiccamenti, delle scene tra l'altro che nella versione americana poi sono state anche tolti, in senso esistono varie versioni, esiste una di un'ora, di due ore e dieci quella che è presente su Rayplay è meno di due ore e poi però esiste una versione di un'ora e venti circa versione americana tagliatissima con una realtà veramente secondo me da tagliare con il coltello la pellicola, vabbè comunque alla fine della fiera il film comunque si regge, ripeto interpretazioni di grande importanza, un cast seppur ridotto di grandi personaggi che sanno fare il loro mestiere portiamo da John Mills, un veterano, all'epoca ancora non lo era però già era rodato bene ma sarebbe poi divenuto un veterano dei film di guerra e parliamo anche di questi personaggi, di questi attori all'interno dei film di guerra, pensiamo a Anthony Quayle che sarà uno dei protagonisti dei cannoni navarone, pensiamo a Terry Andrew che sarà anche egli un personaggio di grande importanza nella cinematografia britannica e in particolar modo nella cinematografia bellica britannica e Sylvia Sims, Sylvia Sims che tra l'altro è morta la settimana scorsa quindi diciamo che è anche un elemento interessante per poterla ricordare e che alcune sue interviste diciamo piuttosto recenti, negli ultimi dieci anni raccontava come il film fosse stato realizzato con grande difficoltà, con grande patema, nel senso che le tribolazioni che vengono espresse dagli attori nella recitazione in realtà erano vere, nel senso che effettivamente si trovavano in condizioni difficili, tra l'altro un film ambientato tra la Libia e l'Egitto ma in quel periodo c'era la crisi di Suez, quindi diciamo che gli inglesi non erano molto ben visti in lungo il Nilo in Egitto e quindi in qualche modo ripiegarono e il film venne realizzato prevalentemente in Libia e poi alcune scene vennero realizzate in studio anche in Inghilterra. Quindi un film composito, un film che in qualche modo ci racconta non solo una storia, una storia di tribolazioni, di rapporti interpersonali appunto con caratteri diversi, con dei ruoli ben determinati, come un po' nella casistica dei fin di guerra, in cui appunto c'è un manipolo e chi è un po' più portato per una cosa, chi è un po' più portato per un'altra, che ha un tallone da chille su qualcosa rispetto appunto a un altro che ce l'ha su un altro aspetto. Tra l'altro tra gli attori vorrei ricordare anche Walter Gottel che interpreta un ruolo di un ufficiale tedesco, Walter Gottel che sarebbe stato molto ricorrente nella storia del cinema come ufficiale tedesco, tra l'altro lo interpreterà anche in I Canoi Navarone, quindi troviamo anche degli elementi di raccordo con I Canoi Navarone, oltre a interpretare tutta una serie di personaggi nella saga di James Bond a partire da un sicario della Spectre in Dalla Russia con amore, oltre ad aver interpretato il generale Gogol, ossia il capo del KGB dalla 77 all'87 nei film appunto di questo decennio, dalla Spiega Miamava fino a Zona Pericolo, quindi anche abbiamo dei riferimenti nella cinematografia di personaggi, attori o attrici che in qualche modo hanno avuto esperienze diverse ed eclettiche, anche con una certa continuità. Quindi ripeto, un film che secondo me è interessante perché ci racconta una storia di guerra inedita, in particolare poi diciamo che inedita fino a un certo punto, nel senso che poi sappiamo come in particolar modo la cinematografia britannica e in quegli anni il contesto nordafricano era particolarmente gettonato, pensiamo ad altri film sempre negli stessi anni dove un manipolo eclettico di soldati che si perde nel deserto, che deve riuscire a raggiungere le proprie linee con una serie di difficoltà eccetera, quindi diciamo che è un canovaccio utilizzato, ma in questo film secondo me lo declina in maniera anche innovativa, abbiamo degli elementi interessanti che appunto non vi sto a dire perché se magari avete intenzione di vedere il film e poi magari vi sciupo la suspense. E dicevo, è interessante anche per l'elemento di approccio del cinema britannico appunto che in qualche modo pompa un pochettino il fronte nordafricano in cui sostanzialmente poi la Gran Bretagna ha avuto la sua occasione, la Gran Bretagna e l'impero britannico ovviamente, ha avuto l'occasione di combattere, di reggere, di avere una sua specificità autonoma rispetto agli altri fronti dove comunque era un po' debitrice o dei russi o dei sovietici o degli americani in particolar modo, pensiamo alla fronte dell'Europa nord-occidentale a partire dallo sbarcho in Normandia o addirittura appunto nel discorso della campagna d'Italia, Sicilia, Italia eccetera. Quindi in qualche modo quella zona ancora fino al 42, diciamo, era fino ad era la main, diciamo, in qualche modo gli inglesi giocano in casa, nel senso che le vittorie sono proprio loro e quindi c'è un po' un po' uno sciovinismo, un po' un discorso di reclamare i propri meriti bellici, diciamo, quella abbiamo vinta pure noi perché comunque dal 40 al 42 dove abbiamo combattuto combattivamo sostanzialmente da soli e quindi in qualche modo abbiamo da metterci la medaglietta per questa situazione. L'ultima parte, diciamolo, ambientata ad Alessandra, questa famosa birra ghiacciata perché il titolo, cioè un titolo abbastanza banale, anche un po' stucchevo, nel senso che vuol dire birra ghiacciata ad Alessandra perché sostanzialmente il protagonista è portato da John Mills, questo capitano molto fegataccio ma che ha avuto delle esperienze pregresse di vita che l'hanno portato a spesso a bevicchiare ebbene a un certo punto per una serie di circostanze decide che non vuole più bere e dice io non voglio più bere perché bere mi porta una serie di sciagure e quindi vorrò bere solo ad Alessandra arrivati alla meta e mi faccio una bella birra ghiacciata, bella ruspante e in qualche modo poi lo sarebbe andato a condividerla con i suoi compagni di viaggio, quelli che rimangono superstiti, per una serie di circostanze e bla bla bla. Il punto, e qui va secondo me l'elemento interessante che venne scelta, a parte che John Mills venne fatto bene un sacco di volte perché la scena non veniva mai bene perché non sapevano mai quale fosse la colorazione della birra, interessante menzionare come è un film in bianco e nero, ovviamente stiamo parlando del 57, non che non ci facessero film a colori, ma essenzialmente all'epoca se ne facevano ancora molti in bianco e nero, debbo dire che è una fotografia veramente bella, mi è piaciuta, una fotografia stupenda del deserto, una fotografia veramente viva, coinvolgente, che evidenzia molto bene anche le sfaccettature dei personaggi, delle realtà, nonostante ci sono degli errori grossolani nell'utilizzo di mezzi, sono dei semicingolati tedeschi che in realtà sono americani, sono palesemente americani con delle calcomanie che veramente non si possono guardare, oppure delle scene di documentari di aeree in picchiata che vengono inseriti, diciamo, da questo punto di vista degli errori grossolani sotto l'aspetto meramente tecnico. Però a parte questo il film un po' si regge e vabbè dicevo alla fine questa, la birra che viene bevuta con il logo della Kasberg, perché diceva sostanzialmente birre chiare, i britannici non li avevano e quindi sarebbero dovuto utilizzare una birra tedesca, ma all'epoca ovviamente non veniva importata la birra tedesca dalla Germania, essendo poi si pensò una birra danese, peccato che pure la Danimarca era occupata da tedeschi, quindi in qualche modo ma un po' a cazzotti questa scelta. Vabbè è stato di fatto che poi alla fine il discorso della Kasberg era comunque un elemento interessante anche di promozione, di piazzamento di prodotti nella filiera dell'elemento commerciale, tra l'altro che poi questo sketch di utilizzo di questa birra all'interno di questo film venne utilizzato in maniera abbastanza fortunosa negli decenni a seguire, quindi vengono fatte anche delle campagne pubblicitarie proprio con delle riproposizioni di questi pezzi di film, tra cui appunto quello di questo, ma anche di altri, la grande fuga. Quindi la Kasberg adottò un tipo di utilizzo, di simil scimmiottamento di questa pellicola per fare delle campagne pubblicitarie che in qualche modo davano un certo seguito magari a chi aveva visto il film. Quindi è interessante anche come la storia di alcuni prodotti, in questo caso commerciali, possano allungare la vita di un film perché in qualche modo erano presenti in quel momento e in qualche modo creano una scia e riprendono dopo anni il film. Questo è un elemento che in qualche modo lo ritroviamo in tanti film e non è solo questo. Mi viene in mente la pubblicità della Ford, tempi fa, vent'anni fa forse ormai sono passati, la Ford Puma faceva pubblicità mettendo insieme un film con la Puma con Steve McQueen di Bullitt, che era un film degli anni 60-67 se non vado errato, lo riproponeva vent'anni dopo mettendo, anzi anche trent'anni dopo mettendo appunto, cambiando ovviamente la macchina, però diciamo quindi in qualche modo voleva rendere credibile l'utilizzo di una pubblicità ovviamente decontestualizzata ma che in qualche modo era caratterizzante e simbolica di un determinato momento anche attraverso l'utilizzo dei film. Quindi è interessante questa varietà di letture interpretative di questa pellicola che ripeto perde un po' perché alcuni punti veramente sono un po' faticosi, nel senso che l'elemento di ridondanza delle scene, sempre il deserto con problematiche, la benzina che manca, l'acqua che manca, anche se poi alla fine i protagonisti hanno sempre una scorta adeguata, i problemi vengono da altri motivi, perché arrivano i tedeschi, perché ci sono le sabbie mobili, perché ci sta dove andare, quale strada prendere, quella è la più lunga, questa è la più corta, ma la sono i tedeschi, là non c'è l'acqua, lì c'è quei banditi, là c'è quello, là c'è quell'altro, quindi in qualche modo bisogna vedere in che modo si arriverà ad Alessandra per bere questa famosa birra ghiacciata, che poi fa pure male la birra ghiacciata, non lo so, non so che dire, poi magari fanno una congestione con quel caldo, bah, che so, che so, magari vedrete come il film, poi alla fine si sentono male e stanno con il mal di pancia, non so, comunque questo è un elemento mio, che vi metto la pulce nell'orecchio magari per vedere il film. Detto questo, quindi ricordo, per chi fosse interessato, oggi sicuramente ancora è presente su Rainy Play, quindi lo potrete trovare e poi chissà nell'avvenire dove potrà essere visto questo film, un film godibile che alla fine, rispetto a tanta facottiglia che c'è in giro, un film che secondo me vale la pena, anche per ricordare Sylvia Sims, un'attrice che, beh, secondo me non è così, in Italia non è conosciuta molto, diciamo, non credo, poi magari c'è un'associazione di fan di Sylvia Sims che adesso mi scriverà insultando, però in qualche modo, nonostante la sua poca notorietà, è morta la settimana scorsa, quindi in qualche modo, ricordiamo pure Sylvia Sims che fa una parte interessante, recita pure piuttosto bene. Detto questo, come al solito, vi invito a mettere mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima, ciao!